Si è tenuta presso l'auditorium amabile di Sant'Arsegno la quinta edizione del premio nazionale Christian Campanelli a favore della sicurezza stradale, un appuntamento consolidato nel nostro territorio, un appuntamento per ribadire quanto sia importante la cultura della sicurezza stradale in un territorio purtroppo martorizzato dagli incidenti stradali, molti dei quali anche mortali. Il premio in memoria di Christian Campanelli è organizzato da Daniele Campanelli, il presidente dell'associazione Life, insieme alla banca Montepruno, un appuntamento al quale prendono parte importanti personalità delle istituzioni, del mondo istituzionale, politico e religioso. Vediamo. Oggi ritorno a questo premio, questo premio dedicato al mio fratello Christian, un premio giunto alla seconda edizione che viene in Italia a premiare chi si distingue appunto in ambito di sicurezza stradale. Sono particolarmente composto e felice perché oggi qui appunto sono giunti diversi persone che in Italia si impegnano realmente a favore della sicurezza stradale. Cercheremo di continuare sempre con la nostra attività di sensibilizzazione e di formazione perché c'è bisogno, c'è bisogno, c'è bisogno anche che questa attività che si fa sul territorio sia fatta tutta insieme. Ad oggi questa è una dimostrazione che le istituzioni sono vicine, vicine a questo territorio, vicine alla nostra associazione perché insieme possiamo vincere questa battaglia. Sono convintissimo che si fa sempre poco rispetto alle esigenze di sicurezza stradale, quindi bisogna incidere maggiormente, essere presenti anche sul territorio perché la gente possa percepire questo segnale, questa necessità che hanno i giovani di vivere una sicurezza certa. Il nostro impegno è quello di educare i giovani non solo alla sicurezza ma alla passione e al rispetto per la vita. Le regole ci sono per farci crescere nel rispetto della legalità, delle regole ma per salvaguardare un valore grande che è quello della vita. Noi da tanti anni, da cinque anni e forse anche da qualche anno in più collaboriamo come istituto con il progetto, con la famiglia Campanelli, il progetto portato avanti in materia di sicurezza stradale. Poi questa collaborazione quest'anno si traduce anche nella consegna proprio di un premio Banca Montepruno a coloro che si sono distinti in materia di sicurezza stradale nella provincia di Salerno. Quindi un'ulteriore forma di impegno della nostra banca sul progetto e sulla tematica sicurezza stradale.